Già un paio di cose le ho dette ieri, ma le ripeto, quelle che ho detto ieri dopo che la sezione era finita, le mie impressioni. Cioè la mia prima cosa che volevo dire è che io avrei titolato differentemente questo incontro, avrei detto spaccare i pubblici, disfare i pubblici, pubblico di merda prendendo di scanto, delle cose così. Perché il pubblico è un dispositivo di potere, è un dispositivo di governamentalità, questo mi sembra abbastanza chiaro, il concetto di pubblico. In uno dei suoi libri quando parla della biopolitica dice che la biopolitica va dalla popolazione al pubblico, poi non si è mai occupato del problema del pubblico, però lo definisce come un dispositivo di governamentalità. Sono abbastanza d'accordo su questa storia. E come sapete il pubblico è un concetto, per esempio è stato molto dibattuto all'inizio, ho lavorato un po' sul come è emerso il concetto moderno di pubblico all'inizio del novecento. In Francia è stato un dibattito abbastanza interessante, da una parte c'era Gustavo Lebon che aveva questa teoria della folla, e poi dall'altra parte Gabrielle Tard che invece già all'epoca diceva che il gruppo sociale del futuro sarebbe stato il pubblico. Il pubblico come folla dispersa. E io penso che il problema sia effettivamente come disfare il pubblico, come disfare questi dispositivi fondamentalmente di controllo, di produzione di soggettività. Ma non solo che si sono modificati nel corso del tempo, è chiaro che il problema del pubblico si è posto da quando, le avanguardie per esempio, se lo sono posto da subito, cioè il problema loro era proprio come cambiare il pubblico. E lo facevano attraverso delle tecniche particolari, proprio la provocazione, se prendiamo Duchamp su cui dirò qualcosa più tardi, il problema loro era quello veramente come disfare. Poi questa cosa si è riprodotta nel cinema, nel cinema dell'avanguardia, nell'avanguardia. Il problema è che è questo il problema che dobbiamo porci, come disfare il pubblico e perché bisogna distruggerlo da un certo punto di vista. Cioè distruggere, che è una forma di assoggettamento, di asservimento, se come volete, specifica, che dovremmo analizzare in quanto tale. Cosa vuol dire e cosa proporre come tecniche di critica del pubblico? Il problema è che le tecniche che le avanguardie hanno praticato non sono più praticabili. Lo stesso Duchamp, in un'intervista a 64, alla BBC, l'intervistatrice gli domandava se si poteva ancora adoperare la provocazione. Dicevano che non era più praticabile la provocazione. Però su che cosa sia praticabile oggi, e questo dobbiamo interrogarci. Per cui io sarei partito da un punto di vista un po' differente. Penso che però questo problema ci possa porre il limite del nostro discorso politico generale, che non è solo quello rispetto al pubblico. In generale, non si tiene troppo in considerazione il problema della divisione. Secondo me il problema oggi non è il problema del comune, è il problema della divisione. Cioè come si fa a ridividere la società? No, come si fa? La società è divisa, è divisa di per sé. Il problema è come le soggettivazioni di questa divisione. La società è divisa, cioè non ci sono mai state delle diseguaglianze così forti come in questo periodo. E non si assume questo problema. Secondo me il problema sarebbe quello come, appunto, la divisione, come dividere i pubblici, come dividere, come riportare questo problema della divisione. E quindi il problema è di trovare delle forme di rifiuto. E' per questo che ho scritto questo piccolo testo sul Duchamp. La cosa che mi interessava era il fatto che quando, per esempio, abbiamo ricominciato a ripensare il concetto di lavoro, noi che venivamo da un'esperienza operaista, abbiamo abbandonato fondamentalmente il concetto di rifiuto del lavoro. Perché ci sembrava, anche ieri è stato detto, anche ieri, che è impossibile praticare il rifiuto del lavoro su delle professioni che affascinano quelle che le esercitano. Cosa vuol dire per un artista, eccetera, eccetera. Allora mi sono preso proprio Duchamp, che era l'emblema, se volete, del rifiuto del lavoro, e vedere come lui rifiutava il lavoro. Questo problema del rifiuto, di reintrodurre questa dimensione dell'antagonismo del conflitto. È chiaro che non è semplice, però secondo me il problema che abbiamo oggi è questo, piuttosto, il comune, il problema del comune, che è l'altra cosa del comunismo, non è che non debba essere pensato, però ci si arriva secondo me solo praticando la divisione e il problema è che la divisione non può essere pensata nella maniera in cui è stata pensata nel XIX e nel XX secolo, ma il problema resta. Allora perché, dicevo questo esempio di Duchamp, che non è che fosse un grande, si interessasse molto alla politica, avesse una dimensione politica fondamentale, però aveva una pratica di rifiuto. La cosa importante è che questo autore si trovava alla congiunzione di due periodi, il primo è la conclusione della prima, diciamo così, grande costituzione della forza lavoro. Tutto il XIX secolo è stato praticamente caratterizzato dal fatto di trasformare i proletari in forza lavoro. E tutto il XIX secolo è traversato delle lotte di rifiuto di subordinarsi alla logica della produzione. Duchamp arriva veramente al momento, infatti è una memoria storica se volete di questo, è passata anche in Duchamp, il riferimento continuo che fa a questo testo di Lafargue, Paul Lafargue, Lafargue sul diritto all'ozio, ha questa natura. L'altra parte, e l'altra invece, si trova non alla fine, ma all'inizio del processo dell'integrazione dell'arte e dell'artista nel mercato, nel capitalismo. E anche lì la cosa fondamentale è che esercita il rifiuto del lavoro, non solo il rifiuto del lavoro, il fatto di lavorare per vivere, pensa che sia un'assurdità, cosa che mi sembra assolutamente condivisibile anche oggi, voglio dire. Però rifiuta anche, la cosa fondamentale è che rifiuta la sua posizione di artista. Cioè, secondo Duchamp non c'è nessuna differenza tra il fatto di essere operaio e il fatto di essere artista, perché si è assegnati, assigne, come si dice in italiano? Eh? Ti è assegnati, c'è un'assegnazione nella divisione del lavoro che è praticamente omologa. Cioè, essere operaio o essere artista vuol dire accettare che tu devi fare certe cose in un certo modo dentro l'organizzazione della società. E Duchamp rifiuta questa assegnazione. Che mi sembrava una cosa fondamentale, perché non vedo altre possibilità, anche in questa situazione, anche oggi, se non riprendiamo questa capacità di rottura, di rifiuto. Non penso che si possano determinare dei percorsi politici. Bisogna recuperare questa, a me sembra fondamentale recuperare questa tradizione del movimento operaio. Anche perché la tradizione del movimento operaio è ricongiungersi con il passato. Come diceva Benjamin, non bisogna solo guardare in avanti. Bisogna guardare anche, bisogna riguardare e liberare, se volete, vendicarsi, dice Benjamin, di tutti quelli che sono stati sfruttati. E c'è questa congiunzione del rapporto di rifiuto del lavoro, ci congiunge con una tradizione che era quella, nel XIX secolo era molto presente. La socialdemocrazia l'ha praticamente fatta saltare, perché ha portato questo discorso sulla santificazione del lavoro. È riemerso con l'operaismo, poi l'abbiamo riperso, come riqualificare, come riconquistare questa categoria, rispetto a delle professioni che, come dicevano ieri, affascinano la gente, la gente lo fa, perché poi in realtà stiamo tutti vivendo una fase di proletarizzazione molto avanzata, nel senso che la proletarizzazione non solo impoverimento economico, ma anche espropriazione o alienazione, come dicevo una volta, dei nostri saperi. E questa cosa non è ancora ben, non mi sembra che sia stata molto ben teorizzata, il discorso di cui sono responsabile anche io sul rifiuto del lavoro, l'ho detto mille volte, ha questo limite che andava subito, secondo me, accoppiato a questo discorso del rifiuto del lavoro. Cioè con il rifiuto di essere, di accettare le funzioni e le competenze che ci vengono mandate dalla società. Questa è una cosa assolutamente fondamentale da fare, che bisogna recuperare come terreno di riflessione, come terreno di inchiesta, come terreno di pratica politica. Penso che se non riconquistiamo questa dimensione, non penso che si possano determinare dei processi di soggettivazione politica. Allora il problema adesso... Oh, quanto? Il problema è evidente che la divisione non si pone nella stessa... Con cui... E là è un grosso problema di cui non possiamo discuterne oggi, però mi sembra assolutamente fondamentale ripensare una divisione, un conflitto che non sia dialettico. Però il conflitto deve esserci. Cioè la dimensione della rottura deve essere lì, la dimensione del rifiuto deve essere ripensata e riaffermata, penso. Cioè non è che si possa... Non si può contournere, non si può evitare questo problema. Non penso che si possa evitare. E poi il fatto di dire no è fondamentale. Cioè il fatto di dire no non è solo un... Tutta questa interpretazione dell'esiana, che secondo me è un po' sbagliata, del fatto che appunto l'affermazione, si oppone l'affermazione e la negazione, ma non è assolutamente vero. Poi la negazione ci può essere una negazione non dialettica, assolutamente fondamentale, che va ripresa. Perché poi non si riescono a determinare solo sull'affermazione in quanto tale dei processi di soggettivazione politica. Quello che stiamo vivendo, l'impotenza di fronte a questa crisi, mi sembra che sia abbastanza sintomatica. Cioè l'incapacità di determinare dei momenti di rotazione. È vero che non è facile. Per esempio, cosa vuol dire opporsi per esempio a questa cosa del pubblico? Perché ci sono dei meccanismi che sono... Anche qui andrebbero approfonditi, non sono... Stiamo un po' in ritardo su questa cosa qua. Perché ci sono dei... Per esempio, Cioè, diciamo così, ci sono dei momenti della nostra vita che sono organizzati, che sono sottomessi a un dualismo evidente. Se tu lavori, è evidente che sei sottomesso a un dualismo di un certo tipo. Ancora capitale lavoro, se volete. Però quando si è preso nel pubblico, invece, questa dimensione che non è dualista. È una dimensione... È una dimensione che è rappresentata molto bene da questo disegnetto qua. Questo quando l'ho visto adesso, prima non ci avevo pensato, mi ha fatto venire in mente la copertina del Leviatano, di Hobbes, che è fatta di tutti i piccoli ometti, solo che nel Hobbes c'è il sovrano. Qui non c'è il sovrano. Però, fondamentalmente, la situazione di asservimento è più o meno la stessa. Cioè, cosa vuol dire pensare questa dimensione di... praticamente di auto-sfruttamento, di auto-alienazione. Cioè, non c'è più nessuno il sovrano che comanda, ma comunque il meccanismo della subordinazione praticamente non è lo stesso, ma ha gli stessi effetti. Eh, mi sembra che questo pubblico qui rappresenti molto bene la situazione in cui ci troviamo. Cioè, e anche su questo bisognerebbe stare molto attenti perché poi la sovranità, in realtà, i meccanismi di... i differenti... meccanismi di... dispositivi di potere, eh, non sono... non si susseguono. Non c'è la sovranità, la disciplina, il controllo, eh. Funzionano tutti nello stesso modo. Terminerei solo, velocemente, con un testo di Felice Guattari che ho letto ultimamente perché non c'era, non è stato pubblicato prima, molto interessante, in un testo che è uscito qualche mese fa. Eh, Guattari elenca, dice, qual è il problema che abbiamo noi oggi? Abbiamo un problema di produzione della soggettività, ma quale produzione di soggettività? E lui elenca, in maniera molto semplice e anche un po' schematica, però, cinque tipi di soggettività che sono copresenti nella situazione attuale. E con questi tipi di soggettività bisognerebbe ripensare, mentre noi abbiamo sempre l'attentativo di pensare che c'è un solo problema, una sola produzione di soggettività, lui rende la cosa più complessa, più articolata, ma anche più interessante. Dunque parla di soggettività tradizionale, soggettività, per esempio, non so, della Lega, soggettività universale, soggettività dualista, soggettività di classe, soggettività mass-mediatica e soggettività che si sottrae a questo tipo di dimensione. Quindi, lui dice, ci sono questi cinque tipi di soggettività che convivono insieme e che attraversano ciascuno di noi. Quindi, come pensare una rottura e una produzione di soggettività di fronte a questo tipo di problema. Voilà. penso che posso fermarmi qua. Grazie. Grazie. Grazie.